Grazie al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, l'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia di Pordenone e l'Associazione Udinese Consumatori Attivi, l'8 novembre aprirà a Pordenone il primo sportello antitrufffe del Friuli Venezia Giulia. È un protocollo che rinsalda una collaborazione fruttuosa tra le istituzioni, la Guardia di Finanza, i finanzieri in pensione e i consumatori attivi. Significa mettere a disposizione professionalità e competenze acquisite sul campo e negli anni da parte dei finanziari per consentire alla nostra comunità di mantenere un alto tasso di legalità. È un progetto che si rivolge soprattutto alle frange più fragili, più debole, più anziane, che sono spesso vittime di raggiri, soprattutto online. Significa anche poter avere un'azione preventiva e quindi sapere dove stanno agendo i malfattori per consentire di bloccarli prima che facciano il danno. Lo sportello si trova all'interno del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, sito in via dell'Autiere 51 a Pordenone, presso l'ufficio Anfi. Ogni mercoledì dalle 10 alle 12 saranno presenti i finanzieri in congedo, con alle spalle una lunga esperienza che offriranno a tutti i cittadini consulenza e supporto. Pordenone apri pista di un progetto che avrà valenza regionale. Oggi con la sottoscrizione del protocollo tra l'Associazione Consumatori Attivi e la Guardia di Finanza si è suggellato un rapporto che già esisteva da mesi, che è forte, del sostegno delle istituzioni, sia del Comune ma anche della Regione, per aiutare il più possibile i cittadini della nostra Regione, davanti alle truffe, davanti a tutti i rischi che sono collegati alle possibili truffe, non solo online ma anche quelle quotidiane che possiamo ricevere da una telefonata. L'impegno dell'amministrazione regionale è pieno per dare sostegno anche finanziario a questa progettualità che da Pordenone verrà estesa a tutto il territorio regionale. Va chiarito fin d'ora che lo sportello che è stato aperto qui, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza garantisce tutta la riservatezza e l'anonimato per gli utenti e quindi una risposta importante per chi ha dei dubbi, delle difficoltà o è già stato vittima di situazioni spiacevoli. L'iniziativa di oggi mette a disposizione della collettività, soprattutto di quella pordenonese, l'esperienza maturata dai finanzieri in congedo in 30 ed alcuni anche 40 anni di servizio. Abbiamo deciso di metterci al servizio ancora una volta di questa città e del suo circondario per riuscire a gestire in maniera anticipata rispetto a quello che può essere un approfondimento investigativo tutti i vari tipi di truffe che affliggono i nostri concittadini. Si sente ormai sempre più spesso il cittadino truffato per forme di investimento sbagliate, prestazioni di servizi viziate, pratiche scorrette sia commerciali che relative a prestazioni di servizio. In questo senso lo sportello antitruffe aperto dall'Associazione Consumatori Attivi Friuli Venezia Giulia nella sede di Pordenone offrirà una tutela anticipata. Riusciremo a avere una consulenza per tutti i cittadini interessati su che cosa li sta affliggendo in quel momento e da allora potremo anche intervenire studiando i fenomeni in via anticipata con un approfondimento tale da creare una struttura investigativa utile a smantellare finalmente questi fenomeni perniciosi.